CNA Abruzzo promuove un'iniziativa volta a mettere a disposizione dei tanti anziani e pensionati una vera rete di orti sociali. L'idea è quella di regalare spazi di condivisione che a questo uniscono un sistema di socializzazione. È un'iniziativa che noi consideriamo importante non tanto per la messa a disposizione del terreno ma la messa a disposizione di un terreno idoneo ad accogliere dei, fra virgolette, coltivatori anziani per cui deve essere necessariamente pianeggiante, deve essere necessariamente servito in fatto di acqua e di quant'altro e soprattutto deve essere un terreno idoneo ad essere coltivato da persone che non sono più nel fiore degli anni. Il 5x1000 è lo strumento pensato per dare vita all'acquisto degli orti sociali un gesto che non costa nulla ai cittadini abruzzesi e che regala nel frattempo vita e dimensione umana ad anziani e pensionati. Per gli spazi sono già state individuate aree con caratteristiche ben precise. La zona che abbiamo individuato è quella che va da Francavilla in questo momento qui verso Cheti è una zona pianeggiante servita dalla bonifica, terreno vocato, l'agricoltura e tutto. Però in ogni caso partendo da moduli di mille metri noi possiamo andare ovunque in Abruzzo.